Ehi ragazzi, bentornati o ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus Abbiamo completato tutte le varie zone, abbiamo raccolto tutti i vari mattoncini con tutti i vari personaggi A questo punto ci restano ancora i vari livelli che dobbiamo ancora sbloccare al massimo Per poter poi sbloccare tutti i vari mattoncini e tutti i vari personaggi Quindi Avengers Assembly l'abbiamo già completato Ci manca ancora il potente della terra Ok, qui diciamo che siamo andati un pochettino meglio Fatemi vedere Qua ce ne vogliono tre, qua sempre tre E qua invece quattro Constellini che abbiamo già preso Quindi iniziamo e vai Ci prendiamo, visto che me lo avete chiesto Usare un pochettino Ant-Man E non ce lo prendiamo subito Prendiamo questo qui che sembra più cattivo Quindi andiamo tutti con la squadra, vai Direttore Fiori, il consiglio ha preso una decisione Quella è l'isola di Manhattan Finché la mia squadra sa gestirla Non darò l'ordine di un attacco nucleare contro la popolazione Va bene, gira Gira Non, non, non Non, non ok Ciavolo che martelletto Ho fatto già piccolino Ah, ok, già questo abbiamo capito Che qua dobbiamo rompere sti cosettini E questo già è un primo dato Ok, che è successo? Ragazzi, che è successo? Ragazzi, vi faccio vedere una cosa Che avevo notato prima, poca miseria Lo possiamo far diventare enorme Magari, attenzione a non cadere Sì, vai così, cammina Porca la paletta, ragazzi Questa paletta è enorme È enorme Ok, il terzo pure l'abbiamo già becchiato Là si deve costruire qualcosa Dopo lo andiamo a costruire, scusate Sì, attestate, bravo, bravo E avanti attestate, forza, forza Becchiate anche questi Ok, facciamo un attimo un change Ci prendiamo Il nostro carissimo amico Ok, di fatto Ah, che peccato Ah, fai anche gli stessi movimenti, anche così Ok, fantastico Tu nel frattempo menai, ragazzi Ok Vai, vai, capitano Eh, no, questo è torre Non ci confondiamo Sennò poi si incalzano Vai, vai, dai un po' di corrente Ok Penso che dovrebbe farcela tranquillamente il nostro amico, no? Eh, scusa Allora Non vorrei essere troppo insistente Ma attenzione Ma sul serio non ce la fai Ma come Sei così enorme e non ce la fai Ma dai Vabbè, dai, ci prendiamo Vai, dovresti beccarlo Thor Vai Thor, vai Ok, Thor Attenzione Thor Ragazzi Mi avete fatto Io sono potente E non ce la fai a saltare Allora facciamo così Fatti piccolino Ah, quando sei enorme non riesci a fare neanche i salti Sei piccolino e sei grande Ok Infatti squadra di coppia Ok, rompiamo anche quest'altro Rompiamo anche quest'altro Ah, quattro Perfetto Noto qualcosa che si sta illuminando All'altra parte Che c'è qua Attenzione Facciamo un attimo la cosa Aspetta Thor, trovi di mezzo questo Perché mi sta rompendo Non riesce Ah, eccolo Puoi beccare Bravissimo Thor Bravo Andiamo un attimo con Antman Ah, Antman Attenzione Ecco, infatti Avevo visto che c'è da qualcosa qua E ci prendiamo un attimo Ah, no, riesci a fare anche tu Bravissimo Bravo Pensavo che dovessimo prendere vedova nera Invece Hai visto Anche lui è capace Allora, il primo sta qua Ma anche no Ok, il secondo sta qua Becchiamoci anche questo Ah, ribecchiamoci anche questo E poi ci becchiamo anche questo Ok Uh, uh, uh Attenzione Spostati Allora, qua dobbiamo becca Ah, ecco Invece, sai che cosa facciamo? Noi ci prendiamo il nostro carissimo Buongiorno amico Sentrai Vai Sentrai Vai Ok Il primo lo abbiamo trovato E ce lo becchiamo Che poi sarebbe il secondo Perché l'avevamo già preso Ok Costruisci mi sta cosa Che c'è qua Ah, ok Sentrai riesci a bloccarlo? Ok, vai E che fai? Mi tocchi Bravo, bravo Sentrai Oh, ammazza Sentrai è fortissimo Ma ti fai Sentrai Ma Sentrai Ma Ma Che cazzo Vabbè Vabbè, dai Ce la facciamo passare Ritiro Sentrai Che era bravo Obiettivamente Non sei più bravo Allora, dovremmo rompere Un altro Cosettino Penso che l'abbiamo già rotto Perché Doveva stare là Infatti il sesso è uscito Non ce l'ha dato Perché evidentemente Era quello che avevamo Già sblocchiato Nell'episodio precedente Cioè quando l'abbiamo fatto Già La prima volta Perché infatti L'avevamo già Slezionato Ragazzi Non l'avevamo già becchiato Allora Qua siamo a posto Non c'è niente Aspetta Sentrai Tu ce la fai Entrare qua dentro Yes Bravo Sentrai Vai Allora Che c'è qua Allora Qua mi sa che abbiamo bisogno Ma tu Mi pare che tu prima Sei riuscito a farlo Sentrai Vabbè dai Non fa niente Ci prendiamo un attimo Vedo la nera Perché vedo che Non sei capace So che ti stanno menando Allora Di chi abbiamo bisogno Di questi personaggi Ok Però prima di fare ciò Ci andiamo a becchiare Un attimo Questi qua Che stanno qua giù Anche perché Là ce ne sta un altro Allora Vediamo un po' Ci becchiamo un attimo Occhio di palco Se lo vedo O lo vedo Ecco qua Occhio Ti hanno già Ok Ti arrivano già rotto Questo dovrebbe essere Il terzo Aspetta È infatti Così è Sì vabbè Ok ho capito Qua c'è qualcosa Qua Ce n'è uno appeso Che stai facendo qua Ma che fai qua Non è che c'è qualcosa Che Oh Sono caduto Non c'è niente là Va bene Non c'è niente Vai Huntman Ce ne possiamo andare Penso Perché l'abbiamo becchiati Qua abbiamo distrutto Un po' di tutto Quindi facciamo un bel change No no Huntman Devi cambiare Allora ci prendiamo Hulk Eccolo qua E poi ci serve Per forza Thor Thor classico Thor classico Ma penso che vada bene Anche quello normale Vai Ok Ok Abbiamo un jet pronto al decollo Il direttore Fiori non è più al comando Revoca ordine 7 alfa Alfa 11 confermato Stark Ti ricevi? C'è un missile diretto Verso la città Tra quanto? Tre minuti Ma Missile lanciato La banca sulla 42esima Dopo la Madison Hanno chiuso molta gente Lì dentro Ci penso io E bravo il nostro occhio di falco Ok dai allora rompiamo un po' di cose Perchiamo di capire Che cosa dobbiamo fare Porca miseria ragazza Di sotto tutto Allora innanzitutto qua c'è qualcosa Quindi Vai rompi Che c'è? Ah ok Prima l'abbiamo becchiato Mi sa che non c'entri Facciamo entrare un attimo Huntman Becchiato Bravo signor Huntman Allora Qui invece No qua si salva Non ci interessa Perfetto Qua che c'è No qua non c'è un tubo Infatti in teoria Forse ci conviene Più far rompere tutto Al nostro caro amico Massa ragazzi Con calma Con calma ragazzi Con calma Che è sto cosa? Ah aspetta Qua c'è qualcosa Aspetta un attimo Vediamo un po' Perchè è andato a finire Aspetta aspetta È ritornato qua Ok vai Ah anche da piccolino Monti Aspetta Ci prendiamo subito Occhio di Falco Eccolo qua vai Aspetta un po' Vai Vai tira 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 Piano piano Che c'è dentro Ah Personaggio Bravissimo No qua non penso Che non ci serve niente Quindi ok Rompi queste cose qua Magari Che ne so Esce qualche altra cosa Ok qua non ci sta niente E poi magari Se poi vediamo Cosa dobbiamo fare Aspetta un attimo Signor Hulk Bravissimo Hulk Non importante Che rompi Non le palle Però Allora facciamo così Vediamo se là Possiamo beccarci qualcosa Ci becchiamo Uno che vola Magari un Chi è questa Velocità No Ci prendiamo un attimo Volevo prendermi Dove sta Ma è quello qua Dai dai Allora Oh là c'è qualcosa Solo che non credo Che ci possiamo arrivare Allora facciamo così Facciamo così Bravo Rompi un po' di tutto Bravo Ironman Anche se là Ci sta il fuoco E quindi mi sa Chissà se Loki Non mi ricordo se Loki Lo sblocchiava il fuoco Sono curioso Aspettate un attimo Vediamo un attimo Se Loki riesce Lo riesce a fare Bravo Loki Mi ricordavo che Loki Ci metti 20 minuti Per sciogliere Vabbè non fa niente Ok Là abbiamo costruito qualcosa Aspetta Loki Stemprami anche Quest'altro fuoco Bravo Qua non c'è niente Allora dobbiamo andare sopra Vediamo se ci riusciamo Che è successo Perché sei caduto Forse aspetta Forse è qua Dobbiamo rompere sto coso No aspetta Qua ci serve occhio di falco Ci serve occhio di falco Stai calmo Aspetta dove sta Occhio di falco classico Vabbè è lo stesso Anche quello mascherato Ok Che c'è? Devi costruire Aha Ok Perfetto Bravo ragazzo Allora ci serve Cap di una merca Vai No là no Ecco Devi mirare sopra Perfetto Togliamoci un attimo Eh infatti mi ricordavo Ok Ah ma quello è oro Ok quello è oro Quindi ci prendiamo un attimo Dove stai Oh questo mi piace No cazzo Sbagliato Aspetta Ironman MK1 Questa penso che va bene Lo stesso ma Ce la fai no? Aspetta un po' Ma che cazzo Che c'è la lanciafiamme Ma dai Aspetta un attimo Che non capisco una mazza Così eh Ok Questo dovrebbe andare bene Aspetta un po' Ce la fai a mirare da qua No Vediamo se riusciamo Aspetta vola eh No 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 Ma che cazzo Ma che state facendo Ragazzi Questo è pazzito Allora Vai ecco bravo vai Vola un attimo Mi dovresti rompere sto coso Ok vai Vai così Ragazzi ma che Ma che c'è? Ma non funziona Ma non ti funziona Alcora Aspetta E vai Ok Meno male Ok Adesso dovrebbe poter Tranquillamente volare Sopra Penso Aspetta un attimo Vediamo un po' Vediamo un po' Ok Becchiato Perfetto Ce ne erano Se no mi sbaglio Aspetta un attimo Vabbè Là non c'è problema Là dove vogliamo Quindi chi se ne frega Vai Scendi ma Che cazzo Ok vai 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 di qua Ok ma c'hai problemi Si ho capito Ma non c'è problema C'è questo vola Che È vero che avremmo potuto Mettere occhio di far Commettere le cose Per appenderti Ma tanto capirai Ok vabbè Lo dobbiamo per forza prendere E lo prendiamo A noi non ci dice niente Nessuno Ok dove stai occhio Occhio Ok vai Ci prendiamo lui Perfetto Vai mira E tira 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 Eh in testa eh Cioè Penso che si è fatto anche male Allora credo che L'abbiamo beccati tutti Ok vai Facciamo un bel change Un attimo Un change un attimo Eh ragazzi No Attenzione Ok vai Vai Thor vai Eh Ulsk vai Bravo bravo Ok Entra un attimo Cerchiamo di capire Se c'è qualcosa Che possiamo Che c'è qua Che vedo che si illumina Ragazzi Uh Si si è un attimo Blocchiato eh Ok Andiamo avanti Ma che ci sei Ma che ci sei Guarda là Ti sto distruggendo Mezza casa Ok Allora facciamo un attimo Un change Vai costruiscimi No deve costruire Deve costruire Ragazzi Eh Lo so che vi state divertendo Però Abbiamo un'opportunità Eh lo so però 3 Allora Eh mi sa che è meglio Che vi date una mossa Perché Allora facciamo così Ulk Basta eh C'hai rotto le palle Sei troppo forte Non lo so Prendiamo lui un attimo Ecco bravo Costruiscimi sta cosa Cioè se no In continuazione Non riusciamo a capire Una mazza Ok Ah bravo Anche tu ci riesci Bravissimo Hai visto Capirai poi si Parano anche cose nuove Eh Uh attenzione Che cosa Ok L'abbiamo distrutto Un altro L'altro sta là Ok Perfetto Eh scusami eh Allora Eh vai un attimo Con Capitano America Aspetta un attimo Così Stempriamo un attimo Il fuoco qua Vai Bravissimo Ok Andiamo avanti Qua si può entrare Perfetto Vai Che c'è qua Che c'è qua Ah c'è un altro fuoco Eh c'ha ragione Vai Lo devi rompere Lo devi spegnere Ah aspetta Che là Ah infatti Ce ne sta uno L'adietro Quindi ci prendiamo Un attimo Capitano America Che dovrebbe No Che Capitano America Occhio di Falco Scusate Ok Perfetto Rotto Che è successo Non si è rotto Si è rotto Ah ok Si è rotto Vai Entra E ci becchiamo Anche l'altro Ok Quindi qua Con questi Avremmo dovuto finire Se non sbaglio Perché nessuno sei Da questa parte I restanti quattro Sono dall'altra parte Ok Aspetta che qua c'è qualcosa Che c'è qua Rompi sto coso Dobbiamo costruire No Non dobbiamo costruire Una mazza Ok Ah no Ci dobbiamo costruire Aspetta Aspetta Vai Che c'è Ah Perfetto Roba per Capitano America Vai Capitano Vai Non credo che ci sia Altra roba qua No Vediamo un po' No Questo forse Manco per niente Ok vai Rompiamo quest'altro Ma che culo è Un solo colpo Ok Un solo colpo abbiamo No è dall'altro Allora ragazzi Che cazzo state facendo Ok Aspetta No Allora ho capito Che siete una bella squadra Che volete fare le cose Di coppia E lo so Però se questo non se ne va a cagare Ecco bravo Bravo Aspetta Aspetta Ce ne sono altri In arrivo Missile in arrivo Esploderà in meno di un minuto E so bene dove metterlo Clint E mille E mille Porca la paletta Che cosa abbiamo combinato Un massacro Porca miseria Quanti loghi ci stanno qua dentro Non si capisce più una mazza Allora aspettate un attimo Che l'ho visto Anche il nostro vecchietto Che ci può servire Ok qui Ah mi sa che non possiamo uscire Quindi dobbiamo iniziare Già da qua dentro Anche se qua ci stanno dando Alla pazza gioia Aspetta che qua c'è qualcosa Ci stanno menando Mi sa che dobbiamo prendere per forza Qualcuno dello shield Ah possiamo prenderci anche Il nostro carissimo Huntman Vai Huntman Vediamo la cosa che dobbiamo fare Ah ok Che facciamo La selezione così Va bene Ok perfetto Ah ok Il settimo l'abbiamo preso Fantastico Bravo Ecco bravo Fatti piccolino E vediamo un po' di risolvere Questa situazione qua dentro Allora qua non ci capisco Una mazza Ci stanno 30.000 loghi E basta Spasciamo un po' la chiesa Anche se credo che No Non ci sia un tubo Ok cambiamo Ah ok Qua dobbiamo uscire Che c'è qualcosa là Aspetta un attimo qua Oh 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 Là c'è qualcosa No scusami Huntman Ci prendiamo uno che vola E andiamo subito Che è questo? Meteorite No mi sa che non vola Non mi ricordo Dove sta qualcuno figo Che vola Ci possiamo prendere Questo vola Yes ok Peccati Ok Siamo all'ottava Fantastico Quindi scendi da questa parte E azioniamo sto coso No 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 Aspetta aspetta Che non vai bene Riesci a rompere Ok bravo Perfetto Ok Ci siamo Ok puoi entrare Tu fai parte Ok puoi azionarlo Che facciamo qua Ok Vediamo un po' Premiamo su Ah forse dobbiamo Riconoscere i Loki Mi sa che Li stiamo distruggendo tutti Ce ne sta ancora un altro Questo ancora Ancora Ora basta Voi siete inferiori a me Sono un dio Creatura ottusa Ma che Ma che è successo A Thor A Hulk Si è fatto piccolino Ma non ero un po' più grande Hulk Che è successo Oh cavolo Mi si è rimpicciolito Hulk Oh là c'è Sterling appeso Vai attenzione Eh Ma dove sta Hulk Scusate Ah adesso si è fatto Un'altra volta grande Ah là c'è il vecchietto Bravo Hulk Bravo Allora Prima di tutto Facciamo così Ma sicuramente Per prima cosa Ci facciamo Un attimo Vai un attimo Sentrai Anche se non penso che Sentrai vada bene Perché qua c'è Sentrai Stai calmo E fermati Allora qua che c'è Eh no Sentrai non fa parte Ha ragione Ha ragione Aspettami Ci prendiamo Vedo la nera Ahà Ok Così vediamo qua dentro Che c'è Che c'è Ah Abbiamo beccato anche l'altro personaggio Però sicuramente dovremo Sì sì Già l'ha detto quattro volte Vediamo se adesso Sblocchiando anche Dovremmo sbloccare Qualc'altra cosa Sicuramente Che esce Ah questo dovrebbe essere Nono se non sbaglio O il decimo Non mi ricordo Aspettate Ce lo prendiamo un attimo Il nono Ok ce ne sta ancora un altro Parla un attimo Col vecchietto Vai Le mie fonti Mi informano Che all'interno Di questo Attico Di cattivo gusto C'è una presenza digitale Estremamente intelligente Vorrei studiarla Raccoglierne le conoscenze Pare che questo Jarvis Si trovi in un'unità Di memoria Qui intorno Trovala Deve essere mia A tutti i costi Ok non ti preoccupare Allora vediamo Perché ci avete colpito Allora Dovrebbe stare all'interno Almeno così ha detto Quindi ci serve qualcuno Che voli In maniera tale Che possiamo entrare Ci prendiamo magari Uno degli Iron Che è successo Ragazzi Eeeh State calmi Entra Aspettate Forse c'è qualcosa qua dentro Aspetta un po' No mi sa che qua Ok Ci prendiamo Ultron Dove stai Ultron? E' sempre questo qui Che sta qua Bravo Vai vai Ok Eh si si Infatti sta qua Ok vai Che culo Vai prendi Becchiato Becchiato Ragazzi Eeeh Ci state veramente Rompendo Perché ce l'avete con me Vai scendi Scendi Ok Consegna 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 a mano Questa non ci fa passare Allora Eeeh no Vogliamo un attimo Vediamo che qua Così salviamo Anche stelle Allora facciamo così Vai Ok Ah ti ho salvato già Ah così ti ho salvato Ok Ma intanto te l'avevamo già salvato Se non sbaglio Allora qua c'è bisogno Di un Iron Man Che magari Riesca A rompere No Aspetta 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 Vai Vai così Vai Ok Qua invece Capitano America Aspetta un po' Mi siete messi d'accordo Tutti e due Attenzione a non cadere Vediamo che esce da qua Ah ok L'ultimo Becchiato Bravi bravi ragazzi Allora cerchiamo di capire Che cavolo dobbiamo fare Aspetta un attimo Ci prendiamo magari Uno che vola E voi Ti dite Chi ti prendi? Sentrai Vai sentrai Aspetta Aspetta Che cos'è qua? Costruiscimi sta cosa Beh capirai Cioè non è che Potevamo già volare Prima Non è che Attenzione se entrai Attenzione alla corrente Ok E' andato veramente Alla grande Livello completato Mazzola Quanti soldi Che abbiamo E dai Andiamo Tanto capirai Col moltiplicatore Abbiamo Strarotto Tutto l'impossibile Ok Qua E' andato abbastanza bene Direi Basta dai Forza andiamo avanti Ok Perfetto Per ciò che riguarda Poi le altre cose Abbiamo preso tutto 100% Vado Che te lo dico a fare Eccezio Ok Capitano America Bucchi Vai Guasar E basta Ah pensavo di più Vabbè Mattoncino rosso Sblocchiato Che ci regali Ah beh Sterling Ha salvato il vostro Generalissimo Excelsior Due volte Ti abbiamo salvato Generale Ok Perfetto Regalaci il fumetto Che poi Vi farò vedere Tutti quanti insieme Poi i fumetti Faremo un bel video E ce li andiamo Tutti quanti a guardare Quale abbiamo Beccati Tutti quanti E quindi Stiamo praticamente A posto Ok Andiamoci a vedere Subito Questi nuovi personaggi Che sono usciti Allora il primo È Quasar Eccolo qua Che fa Mazza Perca miseria Ok Dopo Quasar Abbiamo preso Capitano America Bachi Minchia 150 Minchia Questa Oh cavolo Che si fa Si rannicchia Oh Fantastico Che fate insieme La coppia Vincente Ok Fantastico Ok Ragazzi Abbiamo comprato Anche quest'altro Livello Al 100% Sbloccare Solo due personaggi Vabbè Poco male Li comunque Li sbloccheremo Sempre tutti quanti Comunque Spera come sempre In questo video Vi è piaciuto Non vi chiedete In commentare Se ci mettete Mi piace Ci vediamo Nel prossimo video E bye bye No vi chiedete Grazie a tutti.